Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi e Naraku se preferite e benvenuti all'analisi del nuovo PG che va a tour. Goku Super Saiyan God STL, 8.578 attacco perché 7.213 di attacco, 3.612 di difesa. PG carino che... Scusate, ho un po' di influenza. Dicevo, PG discreto con la passiva che... Priscilla? Priscilla? Che sta facendo quel figlio di un buon coniglio? Smettila di stuprare le tende. Dicevamo, PG è abbastanza inutile, che linka malissimo con chiunque perché gli mancano le skill fondamentali per far girare bene il team. Attacco speciale che... E' UFERIA! E' UFERIA! Scusate un attimo ragazzi... Scusate ragazzi ma bisogna pur dare discepina a questi conigli. Dicevamo, PG di merda, che non vi servirà a nulla, che non ci sia un'altra cosa, ma non ci sia un'altra cosa, ma non ci sia un'altra cosa. Scusate ragazzi ma bisogna pur dare discepina a questi conigli. Dicevamo, PG di merda, che non vi servirà a nulla, se non da collezione. Il video finisce qui, noi ci vediamo domani con una prossima analisi. Vi ricordo che se volete supportare con un pool, in descrizione c'è il link per la donazione del sangue. Grazie per la lesione e ci vediamo al prossimo video. Grazie per la visione!